E qui abbiamo gli esperti dell'olio. Come deve essere un olio per essere veramente buono? Un olio per essere veramente buono deve avere i sentori e i profumi del frutto da cui proviene. Un'oliva sa di verde, altrettanto deve avere questo riconoscimento, l'olio che è solo una spremitura meccanica di olive. E soprattutto ricordatevi il vegetale, l'erba tagliata, il vegetale erba tagliata deve avere questi sentori. Se non ha questi sentori vuol dire che ci sono delle problematiche. Poi tengo a sottolineare molto evidentemente che l'amaro e il piccante sono i pregi dell'olio, sono classificati come pregi. L'olio di quest'anno è veramente eccezionale. Non c'è quantità ma c'è soprattutto una grande qualità. Difficile sentire nei varie manifestazioni a cui sono stato partecipe trovare dell'olio che presentano delle lacune. Si trovano dei grandi fruttati, soprattutto di carciofo, di erbe officinali, ma soprattutto l'amaro e il piccante sono predominanti a causa della carestia di acqua a cui siamo stati consapevoli nel 2017.